Ecco dei consigli utili per rendere le faccende domestiche più semplici. Pratica dei fori su delle bottiglie di plastica con un chiodo. Inseriscile all'interno dei tuoi vasi ricoprendole quasi del tutto e riempile d'acqua. Un ottimo sistema autoinnaffiante, ideale per quando sei in viaggio. Vediamo insieme un trucco per inserire le federe in un attimo. Metti la federa al contrario e prendi gli angoli dall'interno. Molto più facile. Non sai come pulire la zanzariera? Usa un rullo adesivo per rimuovere lo sporco facilmente. Come nuova. Per pulire le parti più scomode da raggiungere, prova ad usare uno slime. Grazie alla sua consistenza appiccicosa, catturerà tutto lo sporco in un attimo. Provalo anche negli interni della macchina. Guarda tutto lo sporco che ha catturato. Incredibile! Ecco un metodo per strappare il nastro adesivo senza forbici. Ripiegalo su se stesso e tira. Perfetto! Hai una maglia bucata? Non gettarla. Riutilizza il tessuto tagliandolo in piccoli quadratini. Mescola insieme acqua, alcol e olio essenziale. Immergi i panni all'interno. Una soluzione disinfettante da tenere sempre a portata di mano, perfetta per le superfici in acciaio. Ideale sia per pulire che per tenere lontani i germi. Perfetto! 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 Grazie a tutti.